l'eco bonus al 110% un pochettino mira questo c'è un po' il timore non mi nascondo anche se è uscito e dovrò ancora approfondire le prime linee guida dell'agenzia delle entrate nel discorso c'è il timore che il 110% così come è stato sbandierato dal governo come un vero e proprio bazzuca sull'economia italiana possa non rivelarsi tale sembrerebbe che i presupposti che c'erano stiamo andando un po' disattesi approfondirò sicuro una delle cose che però è il grande punto di domanda legato al 110% per esempio è il problema della cessione del credito bisogna mettere d'accordo anche gli istituti bancari e finanziari affinché possano acquistare il credito delle aziende perché se no soltanto le aziende molto formate con le spalle molto molto larghe potranno accollarsi dei crediti d'imposta che come sappiamo in Italia ci sono molto lunghi nel poter compensare quindi dobbiamo ci sono delle buone presupposti speriamo che l'attuazione sia altrettanto buona a l'attuazione Grazie a tutti.